credo una grande rega natese nella chiudere la partita negli episodi dove c'hanno grandi giocatori che se c'è il minimo errore ti fanno male dall'altra noi oggi per l'importanza della partita abbiamo fatto degli errori troppo grossolani dispiace perché la squadra veniva da un periodo di partite in sette partite avevamo perso una volta sola e l'uscita del capitano sicuramente ha condizionato diciamo il risultato nel senso che per noi il nostro capitano nella difesa della nostra organizzazione è troppo importante quest'anno siamo un po troppo poveri un po troppo giovani e quindi chiaramente già l'uscita di un personaggio così per noi è determinante nell'organizzazione del gioco dall'altra la partita secondo me era abbastanza equilibrata e è stata basata sugli episodi su 4 a 0 c'è stata questa espulsione a sossi che aggrava ancora di più le cose adesso non so fisicamente come stanno probabilmente anzi sicuramente rimancherà col materi ma oggi l'arbitro fortunatamente non è stato determinante a finire il risultato nel senso che la rega natese ha meritato di vincere quindi il risultato è netto al loro favore e non aveva bisogno dell'arbero però ancora una volta secondo me l'arbero è stato anche oggi non all'altezza e anche in quella situazione ha voluto dimostrare questa alterigia questa supponenza che ogni tanto hanno loro perché insomma lui si è lamentato su un fallo che poi secondo me non era su falomi col politefta ha detto insomma una frase così non era d'espulsione insomma quindi piove sul bagnato piove sul bagnato una sconfitta così pesante forse nella tua gestione non c'è mai stata guarda ne parlavamo prima con il nostro giornalista locale che ha un ordi cronaca di fia proprio che da allenatore non ho mai perso un risultato così è la prima volta nella mia vita ci dove essere deve essere reganati forse voglio dire qui mi avevano trattato troppo bene quest'estate allora voglio di ho cercato di essere generoso e quindi di però è la prima volta che perdo 4 a 0 nella mia vita mai successo proprio quindi qualcosa devo rivedere anch'io nelle mie strategie nei miei metodi di allenamento non mi riporta stasera sicuramente non dormirò però vabbè domani andiamo a lavorare lo stesso